musica ed eccoci qua con un ospite d'eccezione che è la prima volta in realtà che porto sul canale anche se io e te ormai abbiamo già chiacchierato mille volte magari su twitch in qualche live anche sul mio ma sul canale di tu probabilmente la prima volta beppone come stai ciao luca no sto benissimo grazie guarda si sta sempre meglio con una vittoria con una vittoria è sempre più bello perché il campionato è stato molto difficile vero siamo sul finale ok quindi cerchiamo di raccogliere gli ultimi sforzi e le ultime energie va bene tanto beppe lo conoscete tutti io sono solito far presentare le persone quando venga sul canale non presentarle io quindi raccontaci chi sei che cosa fai per chi non ti conosce guarda io sono beppe o come alcuni mi chiamano gigio stiuve ho il canale youtube da adesso un po più di due anni ho scelto di intraprendere la via di parlare inglese sul canale primo di tutto perché la mia lingua madre non è italiano ma francese stavo pensando anche parlare di calcio in italiano però c'erano già tantissimi tantissimi grande content creator come te come lello chino eccetera eccetera e mi sono ispirato però mi son detto guarda in inglese non c'è non c'è qualcosa che parla di calcio 24 su 7 e volevo volevo anche coinvolgerli perché tante volte vedo traduzione dell'italiano che non capiscono davvero la lingua eccetera 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 e volevo eh dargli contenuti in quantità ma anche di qualità ed è per questo che l'ho fatto e ho avuto la fortuna di partecipare a un contest per diventare l'host del canale twitch da juventus per fortuna ho vinto e dunque sono già due stagioni che che faccio questo beh per fortuna direi anche per bravura poi ti è andata bene che eh non abbiamo deciso noi di fare i contenuti in inglese perché noi che l'inglese lo conosciamo così bene eravamo lì lì eh da da fare la stessa cosa che fai te sulla community straniera no invece è una grandissima cosa perché a me tante volte non so se te l'ho mai detto eh ricevo tantissimi commenti di persone che mi dicono eh per favore traducilo in francese spagnolo in inglese io non c'è come faccio non ne sono in grado io già tanto che riesco a produrli in italiano quindi c'è una fetta di pubblico straniera che che considera il ventus comunque un club molto importante nonostante magari questi ultimi anni di magari nasce da Ronaldo questa cosa cosa pensi te? no io ma guarda ci sono tanti tanti italiani eh per il mondo ok eh guarda mio figlio per esempio che è già la terza generazione perché papà e mamma sono arrivati in Belgio dalla Sicilia io ho imparato il siciliano l'italiano l'ha imparato la televisione guardando il calcio però è vero che mio figlio non parla l'italiano oggi e lui essendo italiano anche nei documenti eccetera eccetera un giorno avrà difficoltà a capire l'italiano se non impara nel frattempo e penso che guarda in America eccetera siamo già arrivati a questo punto di terza generazione che forse sì hanno il nome in italiano però non lo capiscono tutto benissimo eccetera dunque è prima di Ronaldo e dopo con l'effetto Ronaldo si è amplificato molto 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 perché c'è tanta gente che per curiosità è arrivata nel club Juventus alcuni se ne sono andati tanti però alcuni sono rimasti perché si sono affezionati e perché gli è piaciuto non lo so la storia della Juventus i colori eh ed è vero che loro cercano informazioni sulla Juventus però è bellissima anche la tua storia che dici l'italiano è stato imparato tramite il calcio comunque vedere le partite di calcio è qualcosa di sì sì ma parlavamo in francese siciliano a casa e è vero che il siciliano capisce l'italiano però io non lo capisco il siciliano per dire è differente è vero è difficilissimo e parlare in italiano è stato all'inizio anche difficile per me io ho perfezionato l'italiano prima con la televisione guardando le partite con caresse eccetera eccetera guardando novantesimo minuto all'epoca però dopo ho lavorato tre anni con un capo che arrivava da Firenze e con lui parlavamo anche lui Juventino e parlavamo tutti i giorni in italiano e questo mi ha aiutato molto sbaglio ancora molto però questo mi ha aiutato direi che lo parli divinamente ascolta ci tuffiamo nel presente e cioè io di solito quando faccio queste chiacchierate non ho un filo conduttore non mi preparo niente mi piace che sia un fiume in piena e dove andiamo andiamo però concentramoci su questa stagione che cosa mi racconti di questa stagione nello specifico guarda ti dico la verità una stagione te l'ho già detto ti ho già anticipato per una stagione molto difficile raccontarla penso che davvero difficile perché io sono di natura già prima di lavorare per il canale Juventus più positivo qualcuno che ci crede fino alla fine però questo non vuol dire essere mettersi le tappe davanti agli occhi o difendere tutto e in tutto e per tutto questo non è vero perché vedi che ci sono difetti all'inizio della stagione con un Ronaldo che se ne va io prego di arrivare nei top 4 perché ci sono tante tante cose che fanno che mi fanno dire non so se ci arriviamo dopo vedi i risultati Empoli, Milan, Napoli, gli infortuni, un Federico Chiesa non avendo una punta centrale perché Morata non lo è e io pregavo e speravo di arrivare nel top 4 quando a gennaio, fine gennaio perché un mese con tante partite però a fine gennaio prendiamo Zakaria e Vlaovic mi dico adesso è obbligatorio arrivare nei top 4 che è una storia un po' diversa prima ci speravo e pregavo dopo mi sono detto questo è adesso un dovere della Juve non si può fallire però è vero che Zakaria inizia segna due o tre partite dopo anche lui si infortunia e la stagione è difficile guarda io fino all'ultima partita che abbiamo vinto contro il Sassuolo avevo tanto tanta paura perché è una stagione molto difficile è non bella e non facile da raccontare su YouTube su Twitch o sui canali perché cerchi di capire cerchi di giustificare ma è difficile davvero difficile sì io avevo quasi il tuo stesso sentore non ero esattamente nella tua posizione io quando va via Ronaldo penso che la posizione della Juve sia tra la seconda e la quarta di Serie A cioè io non ho mai avuto l'idea che potessimo rimanerci fuori sulla carta eh anche come era iniziato il campionato poi è ovvio che per come si era sviluppato e con tutti i punti di ritardo ho detto oi oi qua il rischio di rimanere fuori è molto alto anzi io pensavo la parte razionale di me pensava non andiamo in Champions e poi avevo un po' di speranza nel cuore quella boccina no interiore che senti ti dice no no tu in Champions ci vai anche qua dato che adesso giochiamo col Venezia l'1-1 col Venezia quella partita lì io mi ricordo che dissi per me logicamente la Juve in Champions non ci va se devo ragionare ma io sento qualcosa dentro poi col mercato invernale come dici te ci siamo alzati di livello io ero convinto che la Juve in Champions dovesse arrivare tra la seconda e la quarta poi ovviamente sai che sono tutte lì attaccate quindi meno male è secondo me oggi se non siamo la prima squadra in Italia siamo la seconda dopo l'Inter che che magari ha quel vantaggio di aver già vinto l'anno scorso e e quindi quella che vince l'ultimo scudetto lo sai meglio di me è per antropagia la favorita per definizione la favorita e Venezia tra l'altro notizia di pochissimi istanti fa ha esonerato l'allenatore Paolo Zanetti questo per me è sempre difficile da capire specialmente con un allenatore come Allegri perché Allegri ha un punto di forza ma anche un punto debole e che lui si adatta alle squadre che affronteremo che tu giochi contro il Bayern Monaco contro il Barcellona o contro il Benevento il Venezia lui si adatta lui è un maestro di capire come giocano gli altri si adatta e lui lo sa benissimo anche guarda io lavorando per la Juventus ricevo tutti i dati i dati delle partite eccetera anche sai quando segnano le altre squadre come segnano eccetera ed è vero che quest'anno mi sono anche approfondito a studiare le altre squadre e io che non sono allenatore ogni tanto mi guardo i video di Emi però questo è vero che riesco a capire come giocherà la Juventus prima della partita perché so che attaccheremo all'inizio o dal sessantesimo al settantacinquesimo adesso non c'è più questo punto di riferimento dell'allenatore del Venezia che è lì perché lo sai che quando se ne va un allenatore hai un altro o qualcuno che c'è già però chiede altre cose tu non lo sai come giocheranno e hanno anche quell'inizione di fiducia un'altra motivazione eccetera eccetera dunque sarà una partita per Max Allegri molto difficile dunque grazie alla vittoria contro il Sassuolo penso che siamo un po' più tranquilli dunque non sarei stupito se per una delle prime volte nel campionato la Juventus farà il suo gioco invece di aspettare gli altri Sì in effetti di solito queste partite qua sono un po' difficili perché non è mai poi un discorso tattico comunque difficilmente lo è proprio un discorso motivazionale cambio l'allenatore c'è una scossa che la squadra deve avere nell'immediato e poi sul lungo magari viene fuori anche l'idea tattica dell'allenatore però subito serve questa botta di adrenalina che potrebbe stordire in effetti la Juventus Io però adesso ti chiedo perché tu mi hai già dato una mezza risposta no? Tu mi hai parlato ancora di preoccupazione sono un po' più tranquillo quindi tu stai ragionando ancora sul quarto posto non sul terzo Ma ti dico la verità Luca io anche te noi siamo Juventini per me come la vedo io o vinci il campionato o vai in Champions Tu secondo terzo quarto Indubbiamente Me ne frego Guarda è bello perché se arrivi terzo puoi anche scherzare con i napolitani con quelli che ti fanno Napoli ed è bello però in termini io non sarei più fiero di finire terzo che finire quarto non cambia per me niente Dopo è bello sì scherziamo è tutto però da Juventino voglio o vincere il campionato o salvarlo e non salvare la salvezza però salvarlo con la Champions Tu hai dato la risposta più bianconera possibile io adesso ti do la mia che è divisa in due parti Uno è per darmi un motivo un obiettivo per queste ultime quattro partite diverso dal confermo il quarto posto che se non impazziamo se non diventiamo matti raggiungiamo per forza di cosa perché dipende davvero tutto da noi e in seconda battuta per migliorare la posizione dell'anno scorso perché noi l'anno scorso finiamo quarti e tra l'altro proprio in una partita contro il Napoli in cui succede di tutto meno male che poi loro lasciano i punti dietro Paraoni sempre lui incredibile però l'anno scorso arrivi quarto e allora dici in un percorso di crescita inizia già ad arrivare terzo che non significa aver fatto meglio perché quello che hai detto te è sacro se non ti arrivi quarto secondo terzo non cambia niente No hai ragione terzo è meglio di quarto Certo ma questa è logica c'è poco da dire e dicevo per il prossimo anno invece che sensazioni hai? Pensi che la Juventus farà un mercato super stratosferico? credici così secco Stratosferico dipende Luca perché ieri come te come tanti abbiamo visto Manchester City Real Madrid Non farmi ci pensare Però cosa vuol dire stratosferico? E' questa la cosa perché è vero che io non ho visto sui giornali fratesi e raspadori Abbinati al club come Barcellona, Real Madrid, Liverpool, City che fratesi e raspadori mi hanno davvero impressionato nella gara che abbiamo giocato alcuni giorni fa E' un'altra cosa però Però è un'altra cosa è un altro livello Io mi aspetto guarda speravo davvero di entrare nei top 4 altrimenti sarebbe stato davvero un disastro Adesso che siamo un po' più sicuri anche se la matematica non lo dice però siamo un po' più sicuri Quindi la Juventus andrà sul mercato hanno capito che serve qualcuno a sinistra hanno capito che devono rinforzare il centrocampo trovare anche qualcosa in attacco andando su un'idea di gioco che sarebbe più un 4-3-3 con giocatori che possono fare quel ruolo di 4-3-3 Non dimenticandoci che per la prima parte della stagione non ci sarà ancora Federico Chiesa Dunque sì però visto che abbiamo tante priorità, tanti giocatori di andare a comprare Non mi aspetterei un Mohamed Salah, un Renan Lodi, questi nomi perché è difficile Un colpo grosso puoi farlo, tanti no Dunque però un bel mercato, un mercato funzionale questa volta, questo sì Per invertire un po' la tendenza magari adesso negli ultimissimi anni magari non è stato così Nell'ultimo forse posso dirti perché purtroppo né Sarri né Pirlo hanno usufruito di un mercato su misura Secondo, vabbè, Pirlo aveva appena iniziato la gara quindi magari nemmeno lui sapeva esattamente che cosa gli serviva per Però Sarri ha avuto un mercato servito su un piatto d'argento che non corrispondeva a quello che aveva chiesto lui Ma a quelle che erano le esigenze magari della Juventus Quest'estate Allegri ha subito un non mercato perché purtroppo l'accessione di Ronaldo e il suo arrivo di Kenne Locatelli E vabbè, De Miral non è stato chissà che cosa Abbiamo iniziato a gennaio A gennaio sembra davvero il primo passo verso un mercato secondo quello che ci serve E in questo modo mi viene da incastrarti anche il discorso relativo a Paolo Di Bala Che è stato deciso di non essere rinnovato, che hanno deciso di non rinnovare La vedi in quell'ottica lì? Certo, certo, assolutamente Anche se con Paolo Di Bala dobbiamo tornare anni fa Perché il discorso Paolo Di Bala non è oggi Il problema di Bala non è iniziato oggi Il problema è già iniziato tanti anni fa Con un giocatore che doveva essere, non dico Messi o Cristiano Ronaldo Però nella fascia appena sotto Con un Neymar e con quei giocatori solo sotto E non è mai arrivato a questo livello Tranne alcuni momenti straordinari Come la doppietta contro il Barcellona in Champions eccetera eccetera Però ogni volta si è perso un po' Per ragioni sue, ragioni di campo Una persona, un giocatore molto forte Forse il più forte che abbiamo in Rosa oggi Tecnicamente molto molto forte Però il problema è che ad un certo punto Per andare a cercare giocatori d'utile alla squadra L'abbiamo messo sul mercato Per cambiarlo con un Lukaku per esempio Lui ha rifiutato tutto Anche per esigenze di bilancio Perché all'epoca ricordo che il dopo Marotta Non è stato facile Marotta aveva appena rinnovato tanti giocatori Come un Chedira, un Matuidi Abbiamo ripreso un Niguain Nessuno voleva andarsene E un Paraccio è stato molto bloccato nel mercato all'epoca E Paolo Di Bala non l'ha presa bene E penso che da lì, io ricordo benissimo Un'amichevole prima della stagione con Sarri Dove lui fa un gol straordinario Con la Triestina E dopo fa vedere il nome Non è la prima volta È quello che dico che con Paratici Mai avrebbe firmato il rinnovo Dopo si azzerra tutto Un Allegri che lo conosce molto bene Ha parlato molto bene di lui all'inizio stagione Abbiamo davvero creduto in lui Però problemi con gli agenti, con i contratti Problemi fisici A un certo punto hanno detto Basta, stop E andiamo su un altro tipo di gioco Perché anche tatticamente Paolo Di Bala Ha molte difficoltà a giocare nel 4-3-3 Dunque penso che la Juve ha deciso di Non rischiare di andare su un progetto Di Bala Perché se Di Bala c'è per 57 partite Va bene il progetto Di Bala Gioco anche con un 4-2-3-1 3-5-2 Quello che vuoi per farlo rendere al meglio Però se lui non ti garantisce 75% delle partite Puoi avere un problema Sì, infatti il discorso che volevo farti Era proprio questo Relativo al fatto che è vero In passato è stato messo ufficialmente sul mercato Era stato addirittura venduto Poi è stato lui non volere Abbandonare la Juventus E quindi è rimasto Era proprio un discorso Per andare su un nuovo ciclo di Juventus Basato su un'idea magari che in questo momento Sta avendo Massimo Liannellegri Su una volontà ben precisa Di schierare una squadra di quel tipo Poi io vedendo anche la Juve di quest'anno Banalmente che di base è 4-4-2 Non riesco esattamente a capire Del perché non si rinnova Di Bala Se davvero si vorrà andare su un 4-3-3 Perché? Però magari davvero quest'estate Non riscatteremo nemmeno Morata Che ne so la metto lì Non riscatteremo Ken Arriverà un giocatore che è un vice Vlaovic Arriveranno due o tre esterni E giocherai 4-3-3 Quindi magari l'erede di Bala Sarà o un esterno O un centrocampista Tu prima mi facevi Dicevi un grande colpo me lo aspetto Ma dove te lo aspetti? Come esterno? Come... Avevo fatto un video Sul perché un Di Maria avrebbe avuto senso Io non so se arriva o meno Non lo so Però ascoltando le voci Eccetera eccetera Sembra che la Juventus E' molto seria su di lui La prima sensazione Da sempre Hai una sensazione di tifoso Dico Come è possibile? 34 anni Non è un titolario Al Paris Saint Germain Come mai? Non penso di volerlo Dopo mi fermo Prima di scrivere O di fare un video Mi fermo E inizio a studiare A guardare Ma ha senso Ha tanto senso Un Di Maria per esempio Perché lui A 117 assist Con il Paris Saint Germain 91 gol Se tu guardi i dati di Paolo Di Bala Ne ha 48 assist con la Juventus E 114 gol con l'ultimo che ha segnato Dunque cerca più il gol che l'assist Sì sono diversi Sono diversi Un giocatore molto più concreto Vicino alla porta di Bala Rispetto a Di Maria Che Un Di Maria gioco più sull'esterno Può giocare a sinistro A destra Anche se lui prediligi la fascia a destra Ma il più importante è che Sarebbe un colpo a zero A zero perché lui ti garantisce Il fatto che i soldi te li tieni Per un altro colpo A centro campo Perché tu non puoi andare Lo sai come funziona il mercato L'abbiamo visto con il foglio di Di Parati Ci ricordi I fissini Fanno le tabelle con tanti giocatori Cinque, sei giocatori per ruolo Non è che tu puoi andare sulla prima fascia di ogni ruolo Di tutti, no, certo O prendi il primo del centrocampo E forse il quarto del, non lo so Di quello a sinistra, non lo so E devi guardare il totale E non è che puoi andare su Wendall Su Milinkovi Savic Su Pogba E devi scegliere Ed è per questo che penso che un Di Maria Ha tanto, tanto, tanto senso In termini di gioco Ma anche in termini di risorse Per tenerti i soldi per un Chissà Un Milinkovi Savic O un De Jong Che non lo so Vediamo Chi ti piacerebbe di più in mezzo? Proprio se dovessi farlo Tu l'acquisto Chi andresti a prendere? In prospettiva anche De Jong Mi piacerebbe molto Però un dubbio Sui giocatori che Non tutti ovviamente Però giocatori molto forti Con l'Ajax Che hanno un po' di difficoltà A trovare spazio immediatamente Nelle altre squadre Perché De Jong Che è un talento Forse anche più talentuoso Di Serge Milinkovi Savic Non è esploso molto molto bene Con il Barcellona È vero che il Barcellona È stato in un periodo difficile Hanno cambiato allenatori Tante volte Ma anche un Van de Beek Ha avuto molte difficoltà E per questo dubbio Se lui si adatterebbe Alla Juventus E alla Serie A Andrei su Milinkovic Perché lui sono sicuro Che è un giocatore Che conosce già da sette anni La Serie A La conosce benissimo Un giocatore che Conosce le altre squadre Che si è ambientato Totalmente Un Milinkovic Di corto muso Se scelgo lui Bisognerebbe prenderli entrambi Per fare una cosa fatta bene Metti uno avanti la difesa Uno a centro campo E lo so Non pago io Stai tranquillo Che non pago io E invece Per terminare No? Tanto che abbiamo parlato Della Serie A La Champions Purtroppo abbiamo fatto Un accenno a questa Magnifica partita Stasera tra l'altro Gioca Liverpool Contro Villareal Vediamo se quelli che ci hanno eliminato Riusciranno a fare un'altra impresa Incredibile Sai cosa mi dice Che mi accompagna Mia moglie Ieri scende Perché a lei Non interessa il calcio Scende Due minuti Prima della fine La partita Guarda il risultato Per curiosità Quattro a tre E mi dice Ma questo è un buon risultato Per la Juventus Quale Juventus? E io invece l'ho guardata C'era la mia fidanzata Che guardava una serie Su Netflix Io me la guardavo In separata sede Su un tablet E ogni tanto facevo Oh Eh Ah Eh Oh Oddio E dice Oh ma tutto bene Ma che partita Sta venendo fuori E alla fine ho detto Scusa È vero Non è la Juve Ma vado a fare un video Perché di questa roba Bisogna parlarne E mi fa Ma come Ma anche Stasera Come fai Non parli di questa partita Qua Di cosa parli Allora quando parli E niente Andiamo purtroppo La Juve in Champions Non c'è Andiamo sulla Coppa Italia Che è l'ultimo vero trofeo Che possiamo conquistare Dove la Juventus Si è fatto comunque Un buon percorso Si è guadagnata la finale Che si giocherà A Roma l'undici maggio Che cosa mi dici? La sensazione Ah Bru Ecco Posto No Già non capisco il fatto Che si gioca Prima della fine della stagione Eh Si è strano Capisco il perché Perché è vero Che devono giocare Ci sono penso Cinque partite internazionali Prima delle ferie E il campionato Che è stato Anticipato Al 13 di agosto Penso Perché Capisco tutto Però dai Questo non va bene Ma lo dico anche per L'Inter e per la Juve Non è solo per la Juventus Si si in generale In generale Questo già mi annoia molto Dopo E' vero che Essendo già quasi sicuri Di essere nel top 4 Questo mi fa Ben sperare Per la partita Perché possiamo davvero Focalizzarci Su questa partita Cosa che non può Cosa che non può far L'Inter Abbiamo giocato Alcune volte Contro l'Inter L'abbiamo persa La Supercoppa Per Una Un errore nostro Di Alessandro Però non è che abbiamo Subito l'Inter Di aver perso 3 a 0 Non lo so Il primo tempo L'Inter Molto molto bene Poi Si sono calmati Anche loro Noi abbiamo fatto poco Avevamo anche pochi giocatori A disposizione Con la partita lì E poi si la perdiamo All'ultimo Dopo giochiamo L'ultima di campionato Contro di loro Non è che abbiamo Figurate Non voglio tornare Su tutto quello Che è successo Abbiamo perso Abbiamo perso Però Ce la giochiamo Partita opposta Sono state due partite opposte La Supercoppa Con le campionate Proprio contrario Dunque Io penso che ce la giochiamo Dopo Come finirà E penso che sarà Ancora una volta Deciso da alcuni episodi Vediamo Però Sono fiducioso Anche perché i ragazzi Vogliono alzare Un trofeo Chissà Sarebbe l'ultimo Di Giorgio Sai come l'anno scorso Con un buffon Che era alza E vediamo Dopo Voglio anche rispondere A una domanda Che non mi hai fatto Però le ultime due partite Lazio e Fiorentina Tanti mi hanno detto Eh sarebbe bello Essere già qualificati Per la Champions Così possiamo far giocare Miretti Su Ledo Winter E io ho detto Attenzione Perché In Serie A C Gli Unders 23 Stanno giocando Il playoff adesso Ok Se siamo ancora lì Chissà Perché dobbiamo toglierci Il piacere Di provare A sognare A dare in B Dunque lasciamoli lì Perché si sono Hanno giocato Un anno intero Per arrivare Nei playoff Io voglio Vederli lì Giocare Con Con Lunder 23 Per provare A sognare A andare in B Che sarebbe qualcosa Di straordinario Dopo Se usciamo Giustamente Prendiamoli Facciamoli giocare Contro Lacio e Fiorentina È un po' come L'altro giorno Lunedì Che Purtroppo Siamo usciti in rigore Col Benfica Però La finale si è giocata Alle 18 Poi Alla sera Si è giocata Sassuolo Sassuolo Juve Non avremmo potuto Avere a disposizione Sule Miretti Che avrebbero poi Giocato Contro Contro L'altra squadra In finale Purtroppo Non è andata così Tra l'altro Non so neanche chi ha vinto Non me ne sono neanche informato Il Benfica Ah Hai riuscito a vincere Per una volta Il Benfica 6 a 0 Contro il Salisburgo 6 a 0 Ok Benissimo Massacrati Beh alla quarta finale Una l'hanno vinta Perché ne avevamo perso tre Ed è Sono una squadra forte Si era visto Che quelli devono veramente forti Ecco Questo magari assume Ancora maggior ragione Impresa Messe in impresa Dei ragazzi Ti lascio concludere Con un argomento a piacere Ah non lo so Abbiamo parlato Dell'Under 23 Abbiamo parlato Di tante Tante cose Ma io volevo Anche E sono contento Che sono qui Ringraziarvi Perché stai facendo Un lavoro straordinario Tante volte No ma è vero Anche quando sono sul canale Twitch Sai tanta gente Si arrabbiano Perché Perché parla in inglese Siamo una squadra italiana Parla in inglese Parla in inglese E dopo ci sono anche quelli Che dicono Eh grazie Ci fa piacere Che possiamo sentire Ascoltare Parlarti in inglese Perché la Juve La Juve E quelli molto più simpatici A un certo punto Dicono Ma tu sei italiano Beppe Tu sei Sì 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 Ma lo conosci Luca Todelli Ogni Ogni live Mi chiedono Conosci Luca Todelli Ah sì da me Sì Vado In crema di giugiole No ti ringrazio Poi più che altro Diciamole ragazzi Non so quanto tempo è che dovevamo farla Una roba del genere Io penso che Anni Ieri ci siamo trovati Ci siamo sentiti E ho detto Ascolta La facciamo Boh Siamo riusciti a trovare il giorno Perché abbiamo sempre avuto degli orari Io Quando lavoravo Tu che lavori ancora Facciamo fatica a incastrarci Invece stavolta ci siamo riusciti Molto bene E Attenzione Possiamo dirlo Che prima o poi Verrò io da te E addirittura E addirittura No assolutamente Assolutamente E proviamo in inglese Lo facciamo in inglese Sarebbe molto Addirittura in inglese Sì sì Ma tu sai che perdi Tipo tre quarti della community Perché ti dicono Sì ma chi Guarda Io sono sicuro che Io sono sicuro che Ne guadagnerò oggi Con te Ospite sul mio canale E dopo se ne andranno Al canale Quindi puoi perderli dopo Ok Bella sempre No vabbè ma la gente Disimpara l'inglese Probabilmente Io ho un inglese Veramente basic Quello da scuola Non ho viaggiato Quindi purtroppo Siamo lì ma ci provo Ci provo Creo dei meme Probabilmente Ti porto un po' Un po' di trash Niente per per No così Così spieghi Così spieghi Il cartello Uniz Ronaldo Che ogni tanto ancora Me lo Ce l'ho lì dietro Eh lo vedo Lì lì Sei un po' flosciato Purtroppo E ogni tanto Mi chiedono Ma perché Perché l'ha fatto Lo spiegherò Va bene Va bene Allora appuntamento Sul tuo canale Per queste spiegazioni È stato un piacere Questa mezz'ora di chiacchierata Tutti insieme Pronoste con Liverpool Villareal Al volo 2-0 Liverpool Mi accodo Va bene Ci giochiamo Il 2-0 Liverpool Ragazzi Giocatevelo tutti Perché abbiamo già visto La partita Un abbraccio Grazie mille Ah ovviamente Il tuo canale Qui sotto in descrizione I ragazzi lo vedranno Taggato Ciao a tutti Grazie mille I ragazzi lo vedranno Grazie a tutti